Ciao ciao a tutti, buon lunedì, buon pomeriggio e buon inizio settimana. Spero che stiate tutti bene, che abbiate passato un weekend rilassante. Il mio weekend è stato ricco di emozioni, di ricordi, di amici vecchi ritrovati dopo tanti anni perché abbiamo festeggiato il compleanno di una mia carissima amica Mara e per l'occasione abbiamo organizzato una festa a sorpresa in oratorio, nel nostro vecchio oratorio. Pensate che io sono stata la catechista di questa ragazza, perché siamo ragazze. E poi comunque l'amicizia è continuata fino ad oggi e sicuramente continuerà per tutti gli anni in cui saremo su questa terra. Ed è stata un'emozione bellissima perché abbiamo rivisto vecchi amici, vecchi compagni di oratorio, di compagnia, di campeggi, di canzoni cantate nelle notti estive con la chitarra. È stato veramente un momento molto bello, molto emozionante, che ci ha fatto ritrovare tutti un po' più vecchi, un po' più grigi, un po' più grassi, ma guardandoci in faccia ci dicevamo ma noi siamo ancora i ragazzi di 30 anni fa. Peccato che poi ognuno aveva i figli e quindi che erano degli uomini e delle donne ormai dai 18 anni in su e quindi ecco c'era questa cosa che ci lasciava un attimo così scombusolati, però è stato veramente un bellissimo momento. Bello, 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 che ci ha fatto capire che comunque i rapporti quelli veri, quelli fondati, i radici profonde che possono essere la fede ma che possono essere anche la passione per lo sport, un'associazione sportiva, un'associazione, non lo so, qualsiasi cosa che si fa, che si fa con amore, che si fa senza pensare a quello che si riceve ma a quello che si dona, questa crescita bellissima che abbiamo avuto in questi anni l'abbiamo ritrovata tutta lì, è bello, è veramente veramente bello, ma il video di oggi non c'entra niente con questa cosa, comunque volevo dirvi com'era andato il mio weekend. Poi domenica abbiamo mangiato appunto la cassula o verzata che è un tipico piatto lombardo come vi dicevo, quindi sono venuti mia suocera, mia cognata, poi ne ho messi da parte 5-6 porzioni per le mie zie e i miei cugini, poi per il Pietro e quindi vabbè è andato anche il weekend. Ma oggi è il 30 di dicembre, è il 30 di gennaio, siamo alla fine del mese e facciamo il video dei prodotti finiti casa e li scopro con voi perché non mi ricordo che cosa ho messo nel sacchetto, so che c'è qualche chicca perché quando l'ho buttata dentro ho detto questo, dirò che mi è piaciuto tanto, poi vabbè le solite cose ma almeno svuoto e faccio questo video una volta al mese perché questo mese abbiamo lavato, pulito un sacco e quindi abbiamo consumato un sacco. Partiamo subito. Andiamo anche veloce perché ci sono sempre i soliti prodotti sempre che mi piacciono, che ho sempre in scorta ma ci sono anche dei prodotti magari così diversi che mi sono piaciuti comunque. Fabuloso alla vaniglia, sempre molto profumato, devo dire che essendo il terzo barattolo che consumo comincio un po' a stufarmi il profumo della vaniglia, l'avevo comprati tutti quando erano scontati, adesso vorrei cambiare un po' profumazione, però sono sempre ottimi, buonissimi e super super profumati. Devo dire che ce n'è uno che lo ha battuto in fatto di profumi e ve lo faccio vedere subito e di questi ne ho comprati a svalangate perché erano in offerta al Tigota, quindi questo ottimo ovviamente è un mio sempre mai più senza ma dove li butto? Ma dove li butto? Ah, ho qui un sacchettone. Facciamo così. E quindi questi ci sono sempre insomma, ma ci sono anche dei prodotti diversi. Allora, Coccolino, Intense Care, Sandalo e Caprifoglio, favoloso, favoloso, erano in offerta al Tigota qualche settimana fa, ne avevo comprati 4-5, che profumo ragazzi, rimane sulla biancheria anche dopo che si è asciugata, anche dopo che è nei cassetti. Oserei dire che questi nuovi profumi, perché io non li avevo ancora provati, della Coccolino sono molto più intensi del fabuloso, quindi se vi piacciono dei capi morbidi, molto 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 profumati, Coccolino Forever. è buonissimo! Mamma mia, fantastico! Quindi anche questo è diventato un mio mai più senza, ottimo. E lo buttiamo. Poi, Chief Ultra Sgrassatore Universale, questi mi piacciono sempre, li uso per tutto, non ho una distinzione per detergenti, bagno, cucina, io questo lo uso anche sull'acciaio, pulisce bene, pulisce tutto, ho profumato il profumo di Marsiglia, un profumo molto classico, esatto, buono, buono scioglie il calcare, quindi è la cosa che a me interessa di più, perché io posso avere anche la cucina più sporca del mondo, ma il calcare non ci deve essere sulla mia cucina a gas, che è bellissima. Quindi anche questo è un promosso, vabbè, poi comunque i prodotti della Chief sono sempre buoni. Uno, due, e il terzo ce l'ho in uso. Prill, buono, erano in offerta tre confezioni, sette euro e qualche cosa, li avevo comprati dati gotà, questi sono sempre buoni, e poi piuttosto che lavare i piatti a mano, va bene, qualsiasi di detersivo. Lasciamoli qua, così non facciamo casotto. Poi, vi faccio vedere questa finita, nel senso che l'ho usata e vi posso dire che era la lampada catalitica che avevo trovato a Action, buonissima, buonissima, buonissima. direi sulla stessa scia di quelle più rinomate, peccato che non ci sia più, perché sono andata a comprarla per una mia amica, ma al momento mi hanno detto che erano proprio quelle offerte boom che fanno uscire e non c'è più, e non ci sono più neanche i profumatori come ricarica. Ma sono andata nel mio store cinese, Fashion Home, e ho chiesto appunto alla commessa, mi ha detto che comunque le ricariche per le lampade catalitica sono più o meno tutte le stesse, quindi ho comprato una fragranza. Però devo dire, molto molto carina, funziona benissimo, perfettamente, profuma, bella, mi è piaciuta per il costo che aveva, che era 7,49€. Direi che è stato un ottimo, ottimo acquisto. Se dovessi trovarla ancora da action, la riprendo. The number one, il mio detersivo dell'anno, è questo. Ve l'ho detto quando l'ho scoperto, lo continuo a pensare. Questo rimuove tutto. Non dico anche il cemento, ma quasi. Vi lascia la doccia, che praticamente non vedete neanche il vetro, ci entrate e sbattete la faccia contro il vetro. È spettacolare, toglie il calcare ovunque. Per me è il miglior pulitore, detergente per il bagno e per il calcare. Cioè, è una bomba. Numero uno. Se dovessi eleggere un detergente casa nel 2022, è questo. Anticalcare Mousse Genio Plus. Fantastico. Questo fatene scorta se non l'avete mai provato. E poi mi direte, tutte le persone che l'hanno provato dopo che io l'ho consigliato, si sono trovate ultra bene. Fantastico. Poi, finito questo Gled Cherry e Peony della Gled Automation Automatic Spray. Buoni, sono tutti buoni. Poi mi piace spruzzare in giro ovunque questi aggeggini. Quindi, ottimo. Non so perché, tra l'altro, visto che ce ne sono alcuni che costano anche di meno, se voi li usate e, cioè, se voi usate questo tipo di profumatore per ambiente e avete trovato anche delle altre ricariche di altre marche che possano andare bene per lo spruzzatore Gled, fatemelo sapere che vado a cercare le ricariche un po' meno costose perché o le trovo in offerta da Action a 2,29, ma sono sempre le stesse profumazioni o altrimenti, ehm, insomma, quasi 4 euro. Direi che non è poco. E anche qui detergenti per i palli, sapone, ecologico, per bucato, sia al numero 1. Sono finiti due, ne sto finendo un altro, ne ho in scorta uno e poi farò la scorta. Buonissimi, l'ho usato sul pavimento, l'ho usato sui legni, l'ho usato diluito nello spruzzino come se fosse lo Chanteclair sulle camicie, sulle macchie, viene via tutto. L'ho usato in lavatrice, sia per i capi bianchi, sia per i capi colorati, devo dire che l'ho usato anche per la lana, non è successo niente, è fantastico, pulisce bene, profuma, dà proprio quel profumo di sapone, di marsiglia, dei panni stesi della nonna, delle nostre nonne, delle nostre mamme, quando ancora riuscivamo a stendere i panni all'aperto. Buonissimo, 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 ma che ve lo dico, affa. Non ci stiamo più, eh. Poi, ecco, è quasi finito, perché me l'hanno buttato dentro così, ma è quasi finito. Ho buttato dentro il Mattia e la Lucia. Vetri e superfici della Coop, non so da che parte arrivi, perché la nostra Coop, cioè la nostra Coop, noi non abbiamo la Coop. Probabilmente è un residuo delle vacanze, che dei detersivi che compriamo in vacanza, poi dopo chiaramente ne usiamo veramente pochissimo, e li regalano tutti a me, e quindi poi io ho finito di utilizzarlo, ne manca veramente pochino, però questo l'ho usato anche sul vetro, il mio vetro grande del bagno, pulisce bene, toglie le macchie, niente di particolare, ma va bene, insomma. Non lo posso ricomprare perché non ho la Coop. Altro top, top top come tutti i Quasar, Quasar legno, ottimo. Io lo uso proprio per fare la polvere sui mobili in legno, quindi su uno straccio di microfibra leggermente umido, ce lo spruzzo, lo passo con un altro straccio, proprio asciugo velocemente, ma non ci sarebbe neanche bisogno di asciugare, è buonissimo, cioè profuma, dà un ottimo profumo ai mobili di legno, li lascia veramente lucidi, come se ci fosse una sorta di cera sopra, secondo me sono i migliori, cioè i prodotti di Quasar veramente hanno una marcia in più, mi piacciono tanto, quando li trovo in sconto, poi questo qua del legno mi dura sempre una vita, quindi anche questo è veramente, veramente ottimo. Altro super. Ma anche qua li ho lasciati dentro così, ma forse perché non riuscivo più a spruzzarli, comunque poi dopo vi furo che li finisco. Cif sgrassatore con bicarbonato, questo mi piace tanto, ha un buonissimo profumo di pulito, lo uso sulle superfici della cucina, ha proprio un buon profumo di limone, di pulito, quindi io ho il lavello in un materiale di sasso particolare che non ricordo il nome, e ho anche tutto il pianale dell'isola in un sasso, mi avevano detto il nome che era la composizione di alcune paste di sasso, insomma potevo buttarci la bistecca, ma quando l'ho comprato mi ha fatto la dimostrazione, potevo buttarci la bistecca e tagliarla, posso mettere le pentole che scottano senza che si rovini, e quindi questo veramente lo passo proprio in velocità, e mi pulisce, non rovina, non lascia l'oni, non lascia il materiale opaco, buono, buono anche questo, vi ho detto, comunque i prodotti della Cif sono veramente tutti buoni. Altro, GLED, e siamo allo stesso discorso di prima, poi, ho finito uno sgrassatore al profumo di Marsiglia della Conad, li trovo buoni, sono secondo me uguali allo Chantecler, mi perdoni signor Chantecler, ma per l'uso che ne faccio io, che questi li uso solo ed esclusivamente sulla biancheria, vanno benissimo, aiutano a togliere lo sporco dalle camicie e le macchie. ho finito questo teodorante per lavastoviglie della Dexal, mi piacciono, mi piacciono tutti, la scatolina che contiene il detergente ovviamente nella lavastoviglie con quello nuovo, lascia le stoviglie profumate buono. gel lavastoviglie anche questo della Dexal è molto molto buono, devo dire che però quando sono andata io l'ho trovato a 3 euro e qualche cosa, quindi è al pari probabilmente degli altri detersivi per lavastoviglie, comunque è molto molto buono, se riesco e se trovo quelli di marca li preferisco. Questo l'ho finito ma non a casa perché sennò voi direte, mi ma questa non apre mai le finestre e profuma con i profumatori, no, questo l'ho finito in ufficio ma ve lo faccio vedere perché l'ufficio è come se fosse la mia casa e quindi ho finito un altro e sono 3. Poi, ancora profumatori e ho finito questo, questi sono quelli piccolini che ho in cucina sala e sul comò dell'anticamera, questo ha il pure clean linen e quindi profumo di lino, pulito, buono, molto fresco, molto talcato. Questi sono quelli, vedete quelli piccolini della stessa linea di quelli grandi. Elena sei fantastica! E qui non c'ho finito neanche il bollettino ma vi giuro che ho finito anche questi due ricariche, sempre del Sense Spray. Ah no, il Sense Spray è quello che ho nei vani, che è quello che si appende alla piastrella e si schiaccia e viene fuori profumo. profumino, buonissimo anche questi. Vabbè ragazzi, cominciamo con l'allegria, mi sta anche venendo un po' di caldo. Iniziamo in allegria la settimana e anche questo qui è molto molto buono, relaxy zen nei vani, ci vuole relax. poi, ma buono, ma quanto sono buoni! Mamma! E i vestiti veramente profumano così, ma tanto! Cioè il Mattia che sta lavorando come panettiere, la sua havaiana così si chiama, profuma tantissimo, sembra che lavori in una lavanderia. Buonissimo! Anche questo, Intense Care, Campanula, Selvatica e Bergamoto. Hanno di quei profumi, questi nuovi coccolino, spaziali. Spaziali. di Simona, che so che ti piacciono, di Beauty Passion. Mi ricordo i nomi delle amiche, ma non mi ricordo mai i nomi dei canali, se ce li hanno diversi dal loro nome. So che a te piacciono i coccolino, se non mi ricordo male, dimmi che questi sono buonissimi, perché per me sono stratosferici. E poi, e poi, e poi, per finire in bellezza, questo, Pratic Family, additivo disinfettante, bucato, battericida e lieviticida, elimina fino al 99,99% dei batteri. Mi sono trovata proprio bene, anche Elisabetta Henry mi aveva confermato che erano molto buone, devo dire sì, 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 sì. Sono buoni, li uso per i capi bianchi, no, allora, quelli liquidi li uso per i capi scuri, in modo che magari non mi rimane qualche residuo, e devo dire che aiuta proprio, cioè aiuta, i capi scuri non hanno più quell'odore, alcune volte un po' forte, come se non fosse proprio lavato, anche se io lo lavo a 40 gradi, perché vabbè, i capi scuri sono felpe, non è che hanno bisogno di essere lavati a temperature elevate, però devo dire che questo mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto, e questo lo ricomprerò sicuramente, mentre per i capi bianchi e le salviette del bagno, io ho finito questo spuma di champagne additivo, è già il secondo che finisco, mi piace tantissimo, e questo lo uso principalmente per tutti i capi bianchi, o leggermente colorati, buono, buono, buono. E signori e signori, ho finito la mia borsettona, è vuota, qui davanti a me ho tutte le bottiglie che ho tirato fuori, è caduta anche la borsa, io vi saluto, spero questa settimana di riuscire a girare qualche altro video, ma non sono sicura perché ho alla mia mamma da portare a fare un po' di controllini, di visite e di esami, eventualmente ci vediamo nel fine settimana, e chissà mai che io riesca a girarvi un Get Ready With Me, lo so che lo aspettate con ansia, lo so, però se ho magari ancora un pochino di tempo, non tantissimo, vi faccio vedere anche i rossetti rossi, altrimenti arriviamo veramente a Natale dell'anno prossimo, e i rossetti rossi dovrò farveli vedere per forza. Ciao cari amici, vi abbraccio, vi mando un bacio, vi auguro un buon proseguimento di settimana, e una buona serata. Ciao a tutti e grazie!